Ciao a tutti ragazzi, come avete visto su Instagram settimana scorsa sono stato una notte in un bivacco e appunto perché avete visto su Instagram in molti mi avete chiesto cosa mi porto quando vado a fare queste notte in bivacco ecco con questo video cercherò di rispondere a questa domanda facendovi vedere cosa mi sono portato io settimana scorsa e innanzitutto parliamo dello zaino, come abbiamo visto nella guida sugli zaini visto che parliamo di un trekking di due giorni con la notte fuori, è stato prendere uno zaino da 35 litri forse anche un po' troppo nel senso che con questo zaino non è proprio pieno, fosse stato un 30 litri sarebbe stato anche meglio però vabbè, avevo questo 35 litri, questo ferreno agile per l'appunto da 35 e vi faccio vedere come l'ho riempito partiamo un attimo dall'esterno dove troviamo i classici bastoncini telescopici per fare trekking questi sono sempre i miei soliti gabel, con quali mi trovo stra bene, però questo è abbastanza soggettivo se volete portarli o no, a me piacciono borraccia, un litro, classica e partiamo adesso però dalla tasca superiore che vi faccio vedere cosa mi sono portato allora, visto che in questo periodo dove inizia a fare un po' freddino io mi sono portato un paio di guanti, i guanti con i quali sono andato su alla capanna Margherita di The North Face e anche il cappellino The North Face che però non ho qua perchè era a lavare, per niente poi abbiamo torcia frontale perchè la sera nel bivacco in cui ero non c'era corrente quindi mi è servita e può servire anche se bisogna uscire la notte dal bivacco o comunque dopo che va giù il sole questa torna sempre utile, bisogna portarsela sempre power bank come dicevo nel bivacco in cui sono andato non c'era corrente quindi mi sono caricato il telefono con un semplice power bank cos'altro? No, qua sopra non c'è niente, ci sono le cinghie dello zaino però, vabbè chiudiamo passiamo allo scompartimento principale che è quello che contiene tutta la roba il succo allora iniziamo, qui abbiamo una pochette con dentro le cose per lavarmi i denti e via dicendo qualche altri fazzoletti salviettini umidificati, queste me le porto sempre so che a molti non piacciono ma se non c'è acqua dal bivacco io con questa mi riesco un attimo a pulirmi a togliermi un po' di sudore che tornano sempre utili poi naturalmente me le porto a valle, non le lascio lì poi troviamo questo è un semplice asciugamano invece se troviamo acqua questo può tornare utile se vogliamo lavarci un po' ci portiamo dietro poi troviamo una piccola scorta di cibo perché nei bivacchi naturalmente non c'è possibilità di qualcuno che ci cucini quindi dobbiamo portarci dietro anche il cibo e io in questo caso ho qui dei risotti pronti che si cucinano molto facilmente in poco tempo bombola del gas naturalmente per cucinare e visto che parliamo di cucina continuiamo con la cucina mio pentolame solito in cui troviamo dentro una tazzina col quale farmi il tè il fornelletto da andare a mettere sopra la bombola gas così da poter cucinare questo fa parte della pentolame il mio kit multiuso per poter mangiare con forchetta, coltello e cucchiaio e l'accendino per accendere il gas che però non ho qua quindi anche pentolame poi passiamo alla parte per quanto riguarda i vestiti qui dentro visto che comunque ormai il clima è un pochino freddino soprattutto in montagna mi sono portato delle calze lunghe queste mi piace sempre averle con me che tengono caldi i piedi una maglia a maniche lunghe lana mirinos e un pantalone lungo termico con questi qua sono stato benissimo la sera e la notte a dormire senza nessun problema continuando cosa abbiamo allora kit di primo soccorso questo sempre sempre bisogna averlo dietro anche perché visto che dobbiamo cucinare non si sa mai che magari ci bruciamo un pochino quindi evitiamo più o meno anche questo sempre averlo dietro soprattutto la sera se dobbiamo uscire dal bivacco con questo evitiamo di congelarci e poi troviamo giacca impermeabile perché anche questa è una di quelle cose che bisogna sempre avere dietro e finalmente per ultimo sacco a pelo in questo caso qua avevo un sacco a pelo da 5 gradi io vi consiglio di stare tra i 5 e i 10 gradi quando andate nei bivacchi anche perché se dovesse per qualche motivo avere freddo di solito nei bivacchi si trovano anche qualche coperta potremmi aggiungere sopra il sacco a pelo e basta tutto qui lo zaino dentro è vuoto è vuoto quindi questo è tutto il materiale che mi sono portato vado ad aggiungervi però che in base al bivacco in cui andiamo potremmo dover portare qualcosa in più o qualcosa in meno vi faccio un esempio in questo bivacco non c'era la luce io mi sono portato una torcia frontale molto semplice però potevo portarmi anche una lampada più grossa la poter illuminare di più la sera mentre si mangiava in questo bivacco non c'era possibilità di cucinare non c'era né una stufa economica né una bombola a gas e qui mi sono dovuto portare la bomboletta ci sono bivacchi in cui magari c'è la stufa economica quindi possiamo benissimo cucinare sul fuoco ci sono bivacchi dove in questo caso i materassi ma ci sono bivacchi dove i materassi non ci sono quindi dobbiamo andare a raggiungere un materasso e via dicendo perciò ragazzi io spero di avervi aiutato nella scelta del materiale che porterete voi nel vostro prossimo bivacco io ho una speranza di essere stato esauriente ed esaustivo anche con questo video vi ringrazio per averlo guardato e ci vediamo al prossimo ciao